Ebbene cari amici Granata, Manolo Chirico e Umberto Vergano, grandissimo, siamo di fronte all'Hotel Boston, la squadra è partita, partiamo anche noi, ci vediamo a Bormio, viaggia con TN, anzi l'hashtag TN in ritiro, ci potrete seguire su Twitter e sulla nostra pagina Facebook e in diretta viaggiare virtualmente con noi al seguito della truppa Granata e allora ci godiamo e partiamo per questi 15 giorni di fuoco, buon ritiro a tutti, Manolo Chirico e Umberto Vergano, ciao a tutti, a presto, ciao